Signor Presidente, era il nuovo il benvenuto e le ripeto, come l'ho detto poco anzi, che è un omore per l'Italia e un grande piacere personale per me accogliere il Camperinale in questa prima fissa di Stato nel Presidente della Repubblica Armene e l'Italia, che è una missione storica e ne sono molto grato. Noi abbiamo ai rapporti di grande amicizia e di eccellenti che abbiamo tra Armene e Italia, si aggiunge la nostra personale amicizia che esprime nella migliore maniera questa amicizia dei nostri paesi. Io ricordo bene la mia visa a Ierevan, di cui la sono ancora molto riconoscente per l'accoglienza e per il contenuto degli incontri che abbiamo avuto. Benvenuto Presidente, a lei e alla delegazione che l'accompagna. Benvenuto Presidente, a lei e alla delegazione di Stato, a lei e alla delegazione di Stato, di Stato, a lei e alla delegazione di Stato, a lei e alla delegazione di Stato, a lei e alla共av di Stato, a lei e alla regolazione di Stato, a lei e alla come si increase. Grazie a tutti e la presta gli stanzioso.